Salve a tutti, qui è Titto, in questo video giocherò nei panni del superstite e per vincere dovrò distruggere tutti i cinque nidi del nemico. Se il video vi è piaciuto, come sempre, lasciate un mi piace e ci rivedremo in un prossimo video. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.